e cioè dimostra che sanno anche loro che con l'attuale governo di centrodestra le risposte cominciano ad arrivare e non possono spiegare perché quelle risposte non sono arrivate prima, quando al governo c'erano loro e allora prevediscono parlare di altro. Però quello che noi stiamo dimostrando è che se lavori con dedizione, se lavori senza condizionamenti, se lavori con coraggio, se lavori senza risparmiarti i risultati possono arrivare. Allora vorrei con voi raccontare qualche dato, qualche fatto, qualche numero che sono molto più forti di tutto il fango e di tutte le mistificazioni che si possono tentare di mettere in piedi.